Buonasera ragazzi, scusate se rido. Vediamo se questa diretta è partita perché qua mi fanno gli scherzi dalla regia. Vediamo un attimino se ci sentite e soprattutto se ci vedete bene. Vediamo un pochettino, intanto poi vi presento come al solito gli altri insegnanti, oggi siamo sempre in tre e non hanno bisogno di presentazione però vedo che forse è partita. Allora intanto do il benvenuto a Mauro Neto, ciao Mauro ci senti? Ciao Giuseppe, sì vi sento, buonasera a tutti. Come state ragazzi? Io trasmetto da Grosseto come ben sapete e qui con noi stasera c'è sempre il nostro mitico Stefano Sarromè. Ciao Stefano. Ciao ragazzi e benvenuti. Come state? Stasera abbiamo un bel trio, abbiamo Beppe, Mauro e siamo qua forti, carichi, carichi per spiegarvi una lezione veramente importante. Vero Beppe? Assolutamente importantissima e ciao Stefano. Ciao Beppe, tutto bene. È proprio bellissimo vederti, soprattutto su YouTube. Sei proprio YouTube genico. Grazie, grazie. Adesso la diciamo tutta Stefano, ci ha fatto partire tre volte Mauro e quindi eravamo lì un po' carichi, se parte o non parte sta dieta, se si sente, anzi andiamo subito a leggere i commenti. Ciao Annalisa da Bari, ciao a tutti, grazie del vostro ciao, il trio delle meraviglie, Jessica, grazie Jessica. Salutiamo Aci che è il mio carissimo allievo, ciao Aci, abbiamo appena finito la lezione con loro due minuti fa e subito si è collegato qua con noi perché ovviamente è un fan, segue sempre tutte le nostre live che facciamo su YouTube. Ciao Aci, un bacione. Grazie a voi ragazzi, anzi io ringrazio voi ragazzi perché ci stanno ringraziando, sono utilissime, grazie ragazzi di queste bellissime parole. Federica, autoscuola Bibiana, ciao! Ci sono le lezioni? Assolutamente sì, assolutamente sì, noi diamo una bella mano a, non autoscuola, sono chiusa autoscuola ragazzi, però sì, segui tutto quello che c'è scritto dentro le app. Federica, che abbiamo le live con Michele, anche dopo aver preso la patente da mesi è sempre bello rivedervi. Oh, questi messaggi sono belli, no, intendevano a me Stefano, Mauro. Ah, certo. Allora, sentite, ma stasera che cosa... Ora lo faccio uscire dalla live con questo, eh. Ma stasera che cosa... Siamo allegri perché per questo periodo qua, no, che comunque di queste brutte notizie che vengono, essere un po' allegri fa bene, fa bene anche ai nostri ragazzi che ci seguono. È importante dare una, diciamo, questa energia positiva che sanno dare soltanto gli insegnanti certificati di quiz patente. Giusto, Mauro? Giustissimo. Ma Beppe non ce l'ha il certificato. No, è arrivato, sì. È arrivato, è arrivato. Ho fatto anche il caffè. Si sono sbagliati, si sono sbagliati. No, ma infatti ce l'ha scritto Giuseppa. Oh, Giuseppa. Bene, quindi stasera, ragazzi, bando alle ciance. Intanto voglio solo ribadire un concetto. Utilizziamo l'app perché è lo strumento più forte che c'è in questo momento, anzi, soprattutto in questo momento, ragazzi. Dentro l'app di quiz patente abbiamo tutto. Abbiamo i quiz che sono... Ci risponde sulla chat dell'app? Cioè, è Francesco Cio, è tutto il risponde sulla chat e che scrive a te Giuseppe tutti i giorni sulla chat e te non gli risponde. O magari scrive a me e non gli ho risposto, però io normalmente rispondo quasi a tutti. Francesco, di dove sei, Francesco Cio? Di dove sei? Da dove digiti? Dipende a quale autoscuola scrivi, Francesco. Perché siamo un gruppo di autoscuole. Milano, ci scrivi di Milano. Se mi dici l'autoscuola con la quale sei collegato, magari l'avvisiamo e gli diciamo... Diamo la mano, diamogli la mano a questo Francesco. Non è che scrivono nell'app e trovano sempre noi. Dovone, ci vediamo l'appunto. È a Mauro, Mauro dell'autoscuola Dovone. Non si fa così, ha ragione, ha ragione. Sennò cosa servono? A Stefano. Dobbiamo tirar le orecchie a Stefano. Stefano, autoscuola da Dovone. Ah, ma è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, Marazzi. Ma magari ha preso lui il coronavirus e non risponde. No, poverino, dai. Autoscuola Etruria, ciao, come stai? Grandissima autoscuola, sempre nel gruppo We The Vai, quiz patente. Bene, ragazzi, io non possiamo perderci solo a leggere i messaggi. Lo so che mi piace leggere i messaggi. Grazie Stefano, a tutti davvero, mi ha aiutato tantissimo. Adesso sto facendo 0,2 errori. Grazie, complimenti. Brava, continuo così. Secondo me vuole scrivere 2,0, 20 errori, Stefano. No, è possibile, è impossibile. Autoscuola di Como, bene. Ragazzi. Chi è di Como? Chi è di Como? Como, dove? Dove, dove, dove? Como, dove? Jessica Lucchmian. Ce la facciamo? Diam, da Torino. Autoscuola. Ecco, rispondiamo a Stefano Saromè. Ti seguo sempre, sei forte. Grazie, grazie. È vero, è vero. Autoscuola di Pavia, sì. Allora, ragazzi, stasera dobbiamo fare un argomento molto importante, e quindi vi chiedo una grandissima cortesia perché ci tengo la distanza di sicurezza. Qual è la cortesia? Dobbiamo condividere questo video perché man mano che andremo avanti le macchine saranno sempre più intelligenti. Adesso mi collego al discorso e alla lezione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, giusto Mauro? Giusto, l'altra volta avevamo iniziato proprio con lo spazio totale dal resto, poi abbiamo fatto lo spazio di frenatura e volevamo completare con la distanza di sicurezza. Esattamente, allora vediamo un attimo se riesco a condividere il video. Ok, me la so già. Sì. Eccolo qua. Share. Ok, si vede bene Mauro? Perfettamente. Ottimo, che bello. Va che bello, eh? Va che bello, eh? Allora, le lezioni scorse, tanto per rifare un attimino una piccola, un ripassino, abbiamo fatto lo spazio di reazione e lo spazio di frenatura. Magari c'era Stefano, sarò me? Sì. Sì, c'era Stefano. Perfetto. E oggi dobbiamo fare appunto la distanza di sicurezza. Come vedete, chiaramente è un po' il sunto di quello che hanno fatto giustamente i colleghi nelle scorse live. Quindi, un piccolo riassunto. Stefano, raccontaci un attimo di questo spazio di reazione, due dritte veloci. Ah, volentieri. Allora, lo spazio di reazione è lo spazio che percorre il veicolo quando il conducente percepisce il pericolo, quindi decide di dover iniziare la manovra di frenatura, quindi stacca il piede dall'acceleratore e va a pigiare il pedale del freno. Questo è lo spazio che percorre il nostro veicolo, abbiamo detto che in media è lo spazio che si percorre in un secondo, ma abbiamo detto che è una media e che equivale, e adesso vedremo, ci spiegherà bene Giuseppe, equivale a che cosa? Alla distanza minima di sicurezza. Quindi tenete presente che questo spazio è lo spazio di reazione del conducente, lo spazio che percorre il nostro veicolo in un secondo, e poi la possiamo considerare anche come distanza minima di sicurezza, quindi descriviamo questo spazio in tre modi diversi, questa è una cosa molto molto importante. Poi, vuoi che spiego anche lo spazio di frenatura? Grazie, sì Stefano. Prego. Allora, lo spazio di frenatura invece è lo spazio nel momento esatto in cui il conducente sta pigiando il pedale del freno finché non si è completamente arrestato. Su questo spazio i tempi di reazione non incidono, ok, quindi quali sono gli elementi che incidono su questo spazio? Le condizioni della strada, del veicolo, il carico, le condizioni atmosferiche, ok, quindi sono tutte quelle cose che abbiamo analizzato nella scorsa lezione. La velocità, abbiamo detto che la velocità intuisce questo spazio al quadrato, quindi a raddoppiare la velocità lo spazio quadruplica, al triplicare diventa 9 volte maggiore e al quadruplicare diventa 16 volte maggiore. La somma di questi due mi dà lo spazio totale da presto. Ok, sei stato bravissimo, anzi io voglio solo sottolineare perché giustamente Stefano gli ho chiesto un riassuntone ed ha fatto in un modo preciso, se ci avete fatto caso ha detto lo spazio di reazione che poi è lo stesso dello spazio percorso in un secondo, che poi è lo stesso come chiamerete fra poco distanza minima di sicurezza, perché l'ha ribadito e l'ha sottolineato? Proprio perché il quiz a volte fa domande su quanto spazio percorre il veicolo in un secondo, piuttosto che quanto è lo spazio di reazione, piuttosto che quanto è la distanza minima? La domanda è sempre la solita, cioè lo spazio è quello che ti sta chiedendo. E infatti, quello che ha detto Stefano è questo, guarda, la distanza minima di sicurezza, quindi hai capito cos'è la distanza minima, no? È lo spazio di reazione. Si calcola proprio in questo modo. Prendi la velocità, quindi in questo caso abbiamo detto, facciamo un esempio 30 all'ora, dividila per 10 e ti rimane il numero 3. 3 per 3, che è un fisso, 3 per 3 mi porta 9 metri. Se vai a 50, fai sempre 50 diviso 10, che poi diviso 10 non è che devo calcolatrice, basta togliere uno zero, rimane il 5. 5 per 3 fa 15, quindi questo 9, questo 15, questo 30 che cosa sono? Te lo faccio rivedere. E questa distanza qua. A volte a me non scrive più dopo che torna avanti e indietro, vero? Ok, comunque è lo spazio giallo. Ragazzi, è lo spazio giallo di distanza minima di sicurezza. Quindi, tanto per capirci, vediamo cosa rispondete se vi faccio una domanda rapida. Se, adesso non vi faccio vedere la slide, se il mio veicolo va a 50 chilometri all'ora, la distanza minima di sicurezza, che equivale a 15, equivale allo spazio verde che stai vedendo in questa slide? Sto dicendo una cosa giusta o una cosa sbagliata? Scrivi giusto o sbagliato? Voi ragazzi, ditemi cosa scrivo perché non posso vedere che ho troppe cose condivise. Nel frattempo che sì. No, dicono no, Alessio Fusare dice no, Waffa dice vero, Jessica Pingi dice sì, Hachi dice no, poi corrono troppo inizio, sbagliato, 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 lo scrivete piano ragazzi. Sto spazzendo la chat. Va bene, allora bravi perché hai detto sbagliato, perché avevo detto che abbiamo solo visto lo spazio di reazione, cioè la distanza minima. Non abbiamo ancora toccato i freni. Quando vai a 50 all'ora, ti sei bruciato 15 metri, questi qua, 15 metri, aspetta che questo riesco a farlo, ok, ti sei bruciato 15 metri, ma non per frenare, solo per pensare e spostare il piede. Ok, vuoi aggiungere qualcosa Mauro? Assolutamente no, magari nel non cascare in quei quiz strani dove ti dicono la distanza di sicurezza serve per evitare lo scontro frontale, no, serve per evitare lo scontro laterale, no, serve per evitare che cosa? Semplicemente il tamponamento, punto. Quando si dice che tutti hanno tamponato, tamponato, quello sto dicendo io, certo. Stefano vuoi aggiungere qualcosa? No, no, perfetto, poi sei stato bravissimo. Ecco, l'unica cosa magari che possiamo aggiungere è che cosa? Che la distanza di sicurezza si deve essere uguale a quella cosa rossa che dice Giuseppe, cioè lo spazio di reazione, ma può essere anche eventualmente di più, quindi cosa vuol dire? Che posso tenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto a che cosa? Quei metri che noi percorriamo allo spazio di reazione, va bene? Quindi stare più lontani rispetto a quello che è lo spazio di reazione. Bravo, praticamente ragazzi, tradotto per ridire quello che abbiamo appena detto, se tu vuoi stare a un chilometro da quello davanti a te va benissimo, perché non ti farai mai male se quello davanti inchioda, ma devi stare attento a non scendere sotto la minima, la minima è quella che avevamo già calcolato nelle altre lezioni e che abbiamo appena rivisto, la minima. Poi, come ha detto Stefano, se vuoi sapere come si calcola la totale, però attento, è la totale e questo spazio verde, ok, se vuoi sapere la totale, devi prendere la velocità, dividerla per 10, non so se qua c'è la slide, vediamo un attimo, dividerla per 10, e no. È dello spazio totale? Sì, forse è qua. No, non abbiamo, non abbiamo mai messo, come si dice. No, perché non ci sono quiz in merito allo spazio totale, infatti. Comunque, si prende la velocità, si divide per 10, e il numero che ti rimane lo moltiplichi per se stesso, però nel quiz non fa domande su questo, come dice giustamente Mauro. Ok, adesso andiamo qualche slide più avanti, non so, Mauro, Stefano, facciamo Mauro. Mauro, ci vuoi dire un pochettino queste tre risposte del quiz, che cosa ne pensi? Dalla prima in giù. La distanza minima di siglairezza non deve essere mai inferiore allo spazio di reazione, è vero, l'abbiamo appena detto, non deve essere almeno uguale e non di meno rispetto allo spazio di reazione. Poi quelli, va bene, sono i soliti calcoli che si ripetono, se andiamo a 30 km all'ora, faccio 30 diviso 10, viene 3, moltiplico poi per 3, viene 9, quindi è corretto. Se vado a 50 km all'ora diviso 10, viene 5, rimoltiplico per 3, che viene 15, lì c'è scritto 14, ma va bene, perché c'è scritto circa 14 metri, sono calcoli chiaramente molto approssimativi, non sono calcoli precisi, quindi se c'è poca differenza tra il nostro risultato e quello che ci dà il quiz, possiamo dire tranquillamente vero. Poi detto questo, io andrei a dire, Giuseppe, sai che cosa? Da che cosa può dipendere poi in questa distanza di sicurezza? Quali sono i fattori oltre la velocità che chiaramente abbiamo già detto, no? Ok, qui, allora Stefano, sullo spazio di reazione, in realtà tu ci hai detto incide la velocità e che cosa è che può ancora influire con questo secondo che dicevi? L'unica cosa che incide è la velocità e il tempo di reazione del conducente, no? Bravo. Quindi i riflessi ragazzi variano da che cosa? Da vari fattori, no? Io di solito quando sono in aula ai miei ragazzi spiego questa cosa, che se io sono esperto e so quello che poi mi capiterà, i tempi di reazione non sono molto brevi, esempio Bolt, il corridore, hanno calcolato che i tempi di reazione erano pari a quasi 0,4 centesimi di secondo, perché? Perché doveva soltanto aspettare lo sparo della pistola, il colpo della pistola per poter partire, quindi sappiava già che cosa doveva fare, sentire quel punto, quel colpo di pistola per poter correre. Un portiere invece gli hanno calcolato che deve parlare un rigore quasi 0,8 centesimi di secondo, perché è un'incognita, sa quando il calciatore gli tira la palla, ma non sa dove va. Mauro forse vorrei chiedere qualcosa, ma Mauro non puoi dire quando tu ho sparato. Quando tu ho sparato io non puoi dire. C'è qualcuno che ha chiesto cosa significa influire, Stefano, hai un sinonimo? Influenzare, cambiare, no? Quando una cosa è influente. Incidere, sì esatto, no? Esatto, esatto. Però per uno straniero magari fa fatica a capire cosa vuol dire. Guarda, condizionare. Hai presente cos'è un'influenza? L'influenza, ragazzi, l'influenza. Cos'è un'influenza? Che condiziona, no? Una persona che dice compra questo che è fighissimo e funziona da Dio. Quello è l'influenza e ti condiziona. Mi piace, Stefano. Oppure quando uno prende l'influenza, cosa fa? Cambia il suo stato che è naturale, sta male. Ok? Prima stava bene, influenzato sta male. Ok? Quindi influisce vuol dire che condiziona quello spazio lì. Fa modificare quello spazio. Spero di aver aiutato questa persona. Va bene. Andiamo avanti. Stefano, che cosa invece influisce sulla distanza di sicurezza oltre a queste cose che abbiamo detto? La distanza di sicurezza dipende anche ovviamente dal campo di visibilità. Quindi io devo aumentare, se ho scarsa visibilità, devo cercare di aumentare la distanza di sicurezza, ad esempio. Oppure la distanza di sicurezza poi va modificata in base anche alle condizioni, ovviamente, atmosferiche, condizioni della strada e altre caratteristiche. E il tipo del veicolo. Anche il tipo del veicolo. Anche il carico del veicolo, ovviamente. E io se sono da solo, la macchina si comporta in un certo modo. Se invece siamo in cinque, in macchina è più pesante, il comportamento in frenata è diverso. Quindi io devo considerare anche questi elementi. Alessio Fusari ci dice anche dalla massa del veicolo, bravo, quindi se siamo pesanti, dalla nostra velocità. Anche dal tipo di veicolo. Dalla velocità. Anche dal tipo di veicolo. Il tipo, perché possiamo avere un tipo. Il tipo sì, perché può essere un tipo di veicolo pesante o un tipo di veicolo leggero, per esempio. Semplicemente, se io vado, Beppe ha detto prima, che se io vado a 50 all'ora devo tenere almeno 15 metri, 3x5, 15, dal veicolo che mi precede. Però se io sono con un ciclomotore e valuto che c'è anche scarsa aderenza, sto viaggiando su una strada con scarsa aderenza. Magari i 15 metri non sono sufficienti, devo considerare di tenere una distanza maggiore dei 15 metri. Esattamente. Salite e discese vanno a influenzare sulla distanza di sicurezza? Certo. E cos'è, Giuseppe, le cose che non influenzano sulla distanza di sicurezza? Guarda, non influenzano, in realtà, stavo guardando ancora se c'è qualche slide che ci può aiutare, non influenzano il tipo di motore che ha installato. Alla fine, chi se ne frega se c'è un diesel o un benzina o un 3000 piuttosto che un 2000. Mi viene in mente, io dico, se per questa battuta in aula non c'entra neanche il colore della macchina. Cioè, tu devi ragionare sulla frenatura. Quindi mi collego a quello che sta dicendo Stefano, giustamente, e vado un pelo oltre dicendo, quindi pensa a che cos'è che ti fa frenare. Freni, gomme, ammortizzatore, massa, che l'avete detto tutti quanti, e velocità. Queste sono le cose che incidono. Tutto il resto in realtà è tutto falso. Caida continua a fare una domanda che è sulle macchine agricole eccezionali, dopo te lo spieghiamo. Finiamo un attimino, voleva sapere la differenza tra macchina e operatrice normale, non eccezionale, ma per quanto riguarda l'agricolo e dopo ce lo teniamo a memoria e ti rispondiamo. Altre cose che non influenzano, per esempio, la larghezza del veicolo che ci sta davanti, Stefano, va a influenzare sulla distanza di sicurezza? Beh, certo che no. La larghezza del veicolo? La larghezza no. Assolutamente no. Però Stefano stava già leggendo questa domanda, la prima in alto. Stefano, che cosa ci dici di questa affermazione? La distanza di sicurezza deve essere aumentata se il veicolo che precede trasporta un carico sporgente poco stabile, quello sì, perché quando troviamo il pannello carichi sporgenti, innanzitutto è possibile, magari non riusciamo a capire bene quant'è la sporgenza e quindi non valutare bene lo spazio di trenatura, quindi è bene aumentarla sempre. Poi se sporgere potrebbe anche cadere, di conseguenza se l'aumentiamo anche di molto è meglio. Ebbene, ragazzi, non avvicinarsi troppo agli autocarri, ai veicoli grossi, perché più ci avviciniamo a questi veicoli, ci viene a mancare il campo di visibilità, di conseguenza io ho necessità di capire cosa succede avanti. Più mi avvicino a questo veicolo, meno ho la possibilità di vedere la strada oltre a questo veicolo, quindi bisogna stare ben lontani. C'è una domanda del quiz, se non sbaglio, dice che si può stare più vicini agli autocarri perché avendo una massa maggiore, lo spazio di trenatura è maggiore, è falso. Attenzione che nessuno vi dirà mai di stare più vicino a un veicolo, semmai vi diranno tutti di stare sempre più lontani possibile da un veicolo, non vicino. Quindi non è che si può stare più vicino perché l'autocarro ha una massa maggiore, ha uno spazio di trenatura maggiore rispetto alla vostra autovettura, ragazzi. Adesso si prende questa responsabilità. Adesso voglio fare una domanda ai ragazzi, secondo voi ragazzi il freno di stazionamento va a influire, va a incidere su questa distanza di sicurezza, punto di domanda? Secondo me, posso rispondere io? No, che no. Sei sicuro che non devo rispondere? Fai prima rispondere ai ragazzi, poi se vuoi rispondi. E nel frattempo Mauro preparati perché c'è una domanda cattivissima che tu ti sbagliò nel quiz. Spero di non sbagliare. Me la puoi dire a me? Allora la dico sottovoce mentre loro rispondono. Le condizioni e le variazioni plano-altimetriche, io non so minimamente che cavolo sono. Aspettiamo prima le risposte, preparati Stefano che adesso ti interrogo sul plano-altimetrico. Plano-altimetrico. Plano, non è plano. Hanno detto tutti falso, qualcuno sì, no, non va a influenzare lo freno di stazionamento perché il freno di stazionamento ragazzi non fatevi fregare il freno a mano. Ma influenzare che cosa ha Beppe sulla distanza di sicurezza? È il freno di servizio. Il servizio. Ah ecco, il servizio. Che sarebbe il pedale del freno. Esatto, adesso interrogo Stefano. Allora Stefano, questa cosa che trovo nel quiz io non la capisco mai. Questa è la cosa che ci arriva, spero, penso anche a te. variazioni plano-altimetriche. E parliamo di distanza di sicurezza. È semplicissimo, variazione plano-altimetrica è salita o discesa. Salita o discesa. Quindi in salita lo spazio di frenatura diminuisce, in discesa lo spazio di frenatura aumenta. Quindi in discesa devo aumentare di molto la distanza di sicurezza. Questa è una cosa che in discesa lo spazio di frenatura, attenti al quiz, aumenta come dice Stefano, che tutti diciamo, ci metti di più e quindi aumenta. Giusto Mauro? Giusto. Giustissimo, esatto. E niente, a questo punto è vero dire che la distanza di sicurezza è una distanza fissa, Giuseppe, possiamo dire che è una distanza fissa. Questa è una domanda un po' cattiva, ma non è fissa, perché va sempre, sempre, sempre regolata in base alla velocità, tranne ci sono due casi che dobbiamo invece mantenere uno spazio minimo proprio già dettato dalla legge. La prima la chiediamo a Stefano, vediamo se è pronto senza slide sotto, ma tanto lo so che è pronto. Se davanti a noi abbiamo un mezzo, anzi prima di non rispondere, vediamo cosa rispondono in chat. Allora se davanti a noi... Oh, se davanti a noi... Spazzaneve. Quanto è lo spazio minimo dallo spazzaneve o spargitrice di sale in azione? Vediamo quanto è. 20 metri. 25, 20, 20, 25, 20, bravi ragazzi, 20. 20, hai detto? 20 metri, bravissimi. E invece, Stefano stai attento, sei in panchina, vediamo cosa rispondono, se sbaglio non rispondi tu. Se c'è il divieto di sorpasso tra i veicoli che trasportano merci, quindi autocarro, autocarro, tra di loro devono stare minimo a quanti metri? Vediamo se lo sanno loro, l'ho fatta prima la lezione ai miei allievi, prima poco fa, vediamo. Io vado alla tua scuola di Stefano, rispondo a 20 metri. No, scherzo. Aci, vedi Aci ha risposto benissimo, bravissimo. Ho capito perché non seguite la chat. Complimenti, complimenti, 100 metri, 100 metri. Ho capito perché non ce l'ha fatta seguire la chat, ragazzi, mi sono collegato adesso. Aci, spara. Bene, bene, bravo Aci, grande, grande. Il nome dell'autostrada Giulia, Aci. Gliela farei vedere però a qualcuno, perché magari non tutti hanno capito, questa dei 100 metri, come funziona un attimino, proprio sul tipo di strada, quale tipo di strada poi, perché non è proprio su tutto. Esattamente, andiamo a vedere, aspetta che te la faccio vedere. Segnali di vieto. Vogliamo domande più difficili, non esistono domande più difficili di quelle che stiamo facendo. Segnali di vieto, vai sul segnale di vieto degli autocarri. Aspetta che vado un po' più in su così si vede un po' meglio. Allora, dicevamo, quando c'è il divieto di sorpasso, quanto è lo spazio minimo che devo mantenere? Non gli autobus, perché gli autobus non devono mantenere questo, ma tra un veicolo che trasporta merce, che pesa più di 3,5 tonnellate, rispetto a un altro come pari, pari a lui. Perché? Perché noi con la macchina possiamo sorpassare e se si mettessero tutti in colonna non riusciamo a sorpassare. Quindi sostanzialmente loro dicono, stai almeno a 100 metri tu camionista, perché così le macchine o i pulmi riescono a sorpassare. Foxy, ma ve pagano, ci pagano Beppe? Foxy, niente, ci volete pagare voi. Potete fare una donazione al nostro canale, il canale è mio, potete fare una donazione, un caffè, almeno un euro e questo è il ringraziamento. Però tutto ciò che arriva da adesso a dieci giorni è tutto condiviso. Foxy, scherzo, sono un istruttore di guida a casa. Eh, lo capisco, sì, in questo periodo per forza. Bene, mentre i ragazzi che si devono ancora iscrivere a un'autoscuola, io volevo dire che possono iscriversi comunque nelle nostre autoscuole di guida e vai, anche perché noi ci siamo già attrezzati e già da tempo, proprio a che cosa Stefano, glielo spieghi te, a come ci siamo attrezzati? Noi abbiamo, sfruttiamo la tecnologia per garantiamo la possibilità di fare le lezioni indiettamente online, no? Giusto? Questo volevi sapere, volevi dire, no? Noi, le sui quali guida e vai, anche se non possiamo fare i corsi in aula, li facciamo tramite conferenza. Quindi, potete, potete, se vi iscrivete in una dell'autoscuola di guida e vai, sicuramente non perdete la possibilità di studiare in questo periodo. Molto prezioso, perché si fermano, si stanno fermati gli esami, ma prima o poi gli esami riprenderanno e voi dovete essere pronti. Giusto. Lo mazzo non c'è nessuno. Io le pago. Ora ci sono io fino a Mornasco. Io le pago. Se lo mazzo sei molto vicino a me. Oppure mi sembra che c'è un'altra autoscuola vicino a Como, l'autoscuola Prina. Ci sono io, che fa parte del gruppo di guida e vai. O se no, un nuovo entrato è l'autoscuola Dea di, mi ricordo, mi sembra, Mozzate. Queste sono le autoscuole della provincia di Como che fa parte di guida e vai. Esattamente. Ora Stefano, rispondiamo alla domanda che avevamo fatto prima. Che cosa vuol dire una macchina agricola eccezionale, non eccezionale, o una macchina operatrice eccezionale, non eccezionale? Beh, è classificata macchina agricola eccezionale, è una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli. Ecco, è considerata eccezionale, diciamo così. Macchina operatrice eccezionale è quando supera i limiti di sagoma e di massa di 3,5 tonnellate per quanto riguarda gli autoveicoli. Gli autoveicoli, in poche parole. Gli autoveicoli, sì esatto. Perché, vabbè, ma sono cose che non vi devono... Cioè, ora ve lo spiego un pochino più nel dettaglio. Tipo, la macchina operatrice eccezionale, è una macchina che va fuori dalle dimensioni e pesi ordinari, diciamo, degli autoveicoli. Quindi si entra in condizioni di eccezionalità. Però non sono cose poi che bisogna sapere, numeri, pesi... Dobbiamo ricordarci che, per esempio, con la patente B non posso guidare macchine operatrici eccezionali. Punto. E finisce lì il discorso. Allora, infatti, io l'ho impostata così perché poi potevano fare quiz. Con le macchine agricole si possono guidare le macchine agricole che non superano i limiti di massa... Così di mesi e di peso dei motoveicoli. Dei motoveicoli. E se superano questi pesi, le dimensioni di pesi, non li possiamo guidare con la patente A, ma la possiamo guidare, ovvio, con la patente B. E la patente B mi permette di guidare le macchine operatrici non eccezionali perché altrimenti quelle eccezionali le posso guidare con la patente C. Ecco, questo è un programma. Giuseppe, ma ci segue come dici te anche chi ha già la patente? Stavo leggendo, Maurizio, io sto a casa, passo il tempo facendo quiz 40, che guido, che guido... Ha avuto già tutte le patente, ha 61 anni, e fa zero errori, grande, Maurizio. Bravo. Ed è bello, Maurizio, è bello, bravo, bravo davvero, perché ci sono poche persone che si tengono aggiornate e che continuano ad aggiornarsi. Questo ci fa veramente tanto piacere. Vero, ragazzi? Ok, sì. Ci chiedono ancora le patenti. Le patenti c'è, qualche live, andate nel... Intanto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, in modo che non vi perdete neanche una live. Ci sono dei video per quanto riguarda la patente, abbiamo già fatto delle live. Poi Salvatore ci chiede consigli per i privatisti, venite in autoscuola. No, Stefano, daglielo te un consiglio a qualche privatista. Cosa dovrei dare? Che consiglio dovrei dare? In specifico, in che cosa? Consiglio ai privatisti. Studiare, come dicono i miei allievi. Seguire le nostre lezioni, studiare. Su che argomento devo dare un consiglio ai privatisti? Non lo so. In generale, studiare. Seguire, venire in un'autoscuola di guida e vai. Almeno per la guida. Camille, posso guidare l'autotreni massa massima a 7 tonnellate? 70 kg? No, 7 tonnellate, penso. Con patente B. Sì, la patente B è 3 tonnellate e mezzo motrice, più 3 tonnellate e mezzo. Rispondo a Leonardo. In discesa lo spazio di frenatura diminuisce, vero o no? Leonardo, in discesa aumenta? Cioè mi ci vorranno più metri per potermi fermare Leonardo in discesa? Pensa come la bicicletta che va in discesa e freni. Ti ci vuole di più per fermarti. Come diceva Stefano, con l'esempio negativo o positivo, se lo vuoi rispiegare. Stefano? Che se c'è qualche cosa che va a influire negativamente, tipo foglie, ghiaccio, neve, qualsiasi cosa che mi porta a pensare che quella cosa lì è negativa, lo spazio di frenatura aumenta. Tra salita e discesa, qual è la cosa negativa? Per me è la discesa, quindi lo spazio di frenatura aumenta. Di frenatura? Esatto. Frenatura aumenta. E in salita diminuisce, vero, certo che è vero. Volevo rispondere a Musa che chiedeva quanto tempo si fanno le lezioni prima di fare l'esame. Beh, questo dipende dall'autoscuola. Da me finché non sei pronto, non è che c'è un tempo preciso. C'è chi si prepara in un mese e mezzo, c'è chi si prepara in tre mesi, dipende un attimino. Io voglio rispondere a Idilla, anche se l'hai risposto tu Mauro, ma in salita diminuisce, vero? Sì. In salita diminuisce, vero? Attento al quiz, perché come ha detto prima Stefano, non ci sarà mai una domanda che dice che puoi scendere sotto. Quindi il quiz dice, discesa aumenta, in pianura, barra salita, tieni quella della pianura che va bene, anche se diminuisce. Non fare il furbetto e tieni quella lì. Beh, beh, me lo fai vedere un auto articolato? Certo. Che hanno chiesto la differenza tra un autotreno e un auto articolato. Intanto l'autotreno, tengo a precisare, che è una macchina con un rimorchio, qualsiasi motrice con un rimorchio. Quindi non dovete per forza pensare al camion e il rimorchio, allora un autotreno, anche la mia macchina che trae nella mia roulotte, che è un rimorchio, è un autotreno, ok? Questo è un autotreno, quindi è l'insieme di una motrice e un rimorchio. L'auto articolato, Stefano, che cos'è? L'auto articolato è un complesso caratterizzato da un trattore stradale e un semi-rimorchio. Eccolo lì. E' atto, il trattore stradale serve solo e esclusivamente per trainare semi-rimorchio. Quindi questo noi lo chiamiamo semi-rimorchio. Invece l'autotreno è? Un rimorchio. Invece l'autotreno è composto da una motrice che è un autocarro o un'autovettura, può essere con un rimorchio. No, con un rimorchio. Vedi, questo è l'auto articolato che diceva Stefano e questo può essere già un autotreno. Non è detto che sia per forza un camion con rimorchio, ma può essere anche un'autovettura con rimorchio e quindi con il carro, vanno indietro. Ti è piaciuto, Mauro? Mi è piaciuto tantissimo, grazie. Almeno abbiamo aiutato un'altra persona. Niente, io direi che per stasera la lezione può terminare qua. Ci si rivede giovedì, ragazzi. Mi raccomando, sempre tanti, numerosi. Condividete questo video fino all'infinito. Un caro abbraccio. Mi raccomando, continuate a fare i quiz. Tanti chiedono quando riaprirà la motorizzazione. Non lo sappiamo con certezza. Hanno detto il 2 di aprile, ma non è detto. Non lo so, Stefano, te hai nuove notizie in merito a queste cose? No, nulla, nulla. Bravo Simone! Guarda cosa ha scritto Simone Caponetto. Restate a casa, giustamente. Bravo Simo. Ribadiamolo, perché ci fa piacere anche a noi condividere questo momento con tutti voi. Quindi siamo tutti a casa in questo momento, sia io che Stefano che Mauro. E come tutti voi, vi siamo vicini. Utilizziamo le applicazioni per starvi sempre più vicini. E cosa dire? Un abbraccio forte. Un abbraccio forte e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Giovedì, alle 19.30. Ciao ragazzi! A giovedì! Ciao!